Mauro Del Piano, consigliere comunale di Siperbasto, lei viene dato come uno dei possibili dissidenti della maggioranza, è vero questo? Ha il dente avvelenato? Mi viene da sorridere perché nulla di più falso e soprattutto per certi aspetti anche tentenzioso perché volevo ricordare a chi si fosse distratto in quest'ultimo periodo che io sono stato eletto nelle liste della coalizione del centro-sinistra e attualmente faccio parte di questa maggioranza a pieno titolo. Quindi la ritengo di una considerazione fuori luogo questa, almeno per il momento diciamo, questa è la mia idea soprattutto perché siamo a pochi mesi dall'inizio di questa nuova consigliatura. Ecco, si dice che lei non abbia votato Giuseppe Forte presidente del Consiglio Comunale perché lei volesse essere il presidente del Consiglio Comunale di Vasto al posto suo. Ma questa è una leggenda metropolitana come tante al buon Peppino Forte, io ho spiegato perché non l'avrei votato il primo consiglio comunale, quello di insediamento, ma per una ragione molto semplice che sicuramente non è di tipo personale ma è di tipo politico perché ritengo in maniera legittima, eventualmente opinabile questa mia considerazione, che dopo dieci anni di PD in questo ruolo, che ripeto è un ruolo istituzionale che secondo me tutti possono ambire e possono farlo. Quindi a lui ho detto in maniera molto chiara che non avrei votato qualsiasi componente del PD ma in quell'ottica che poi è stato lo slogan diciamo del loro candidato sindaco della coalizione e oggi sindaco di Vasto Francesco Menna che disse sempre in tutte le sue uscite che bisognava essere discontinuo con la vecchia consigliatura. E quindi diciamo nell'ambito della discontinuità, nell'ambito del cambiamento, se vogliamo anche dirlo al rinnovamento, ho ritenuto opportuno esprimere il mio parere e quindi qualsiasi mio collega avrebbe occupato quella poltrona, per me non ci sarebbero stati problemi perché comunque, ripeto, andava in discontinuità con il passato. In questi primi 100 giorni c'è stata continuità o discontinuità rispetto all'amministrazione La Penna? Ma intanto in questi primi 100 giorni abbiamo chiarito alcune questioni, sia di metodo e se vogliamo anche di merito. Nel metodo posso tranquillamente sostenere che abbiamo condiviso tutti, che almeno una volta ogni 10-15 giorni la maggioranza si deve riunire per dare seguito a tutto quello che è il programma con cui ci siamo presentati a giugno di quest'anno davanti ai nostri elettori e quindi dobbiamo portare avanti una serie di tematiche che ancora oggi non trovano soluzioni. Quindi io ritengo che il primo passo l'abbiamo fatto, cose che in passato non avveniva, le riunioni di maggioranza si facevano ma non con una certa continuità. Poi dall'altro canto c'è il discorso del merito sul quale tutti ci dobbiamo spendere, sicuramente dovremmo andare nella stessa direzione anche perché questo ci chiede l'elettorato, questo ci chiede la città del Vasto di dare continuità a quelle che sono una serie di interventi che dobbiamo effettuare in questa consigliatura. Sarà fedele sempre a Francesco Minna? Rimarrà sempre in maggioranza? Io rimarrò in maggioranza nel momento in cui, come ho già detto nella domanda precedente, attueremo quello che è il programma. Abbiamo delle questioni aperte, ne cito una su tutte che è l'isola ecologica, che dobbiamo nel 2017 assolutamente terminare. Poi ci sono delle altre situazioni un po' particolari che hanno bisogno di un po' di tempo ma ritengo che nel 2017 sia il completamento di Via del Porto e sia il completamento di Via San Rocco debbano comunque trovare il giusto epilogo. Poi c'è un altro problema alquanto delicato sul quale anche il sindaco Francesco Minna si è speso ed è quello del personale, quindi troveremo sicuramente i tempi e i modi opportuni per intervenire su questo tema, ripeto, che è abbastanza delicato.